in questo momento sta vincendo tutto vediamo se è sorretto da ottimi sci in questo frangetto sicuramente sorretto da ottimi garretti per recuperare in questo frangetto non è stato fantastico è passato 5 metri sopra chiedini in quel passaggio e naturalmente a una velocità superiore o meno 80 dice l'intertempo non c'è niente da fare sta facendo una super gara non c'è niente da fare in qualsiasi condizione lui vince stravince avete visto come ha portato via queste curve fantastico gli altri sbandono e lui va via con un jet con 72 centesimi di vantaggio sul secondo Schiffer primo Herman Mayer una gara stupenda